Sant'Agata Bolognese, provincia di Bologna, la sede storica dello stabilimento Lamborghini Il 5 dicembre 2017 Lamborghini presenta in anteprima mondiale il nuovo SUV chiamato Urus un veicolo che entra in un segmento di mercato diverso da quello abituale del marchio con le supersportive Aventador o Huracan Una presentazione in grande stile dedicata al nuovo Urus un veicolo dalle dimensioni generose con le prestazioni da supersportiva Lo stile riprende le caratteristiche del marchio, fatto da linee taglienti e spigolose nate all'interno del centro stile, sempre a Sant'Agata Bolognese Nello stabilimento si trovano le linee produttive dedicate all'Huracan e all'Aventador con le diverse isole in cui gli operai lavorano alle diverse parti dell'auto come l'assemblaggio del motore e gli interni a Sant'Agata Bolognese a Sant'Agata Bolognese a Sant'Agata Bolognese Ed ecco le vetture pronte per la consegna tutte diverse e personalizzate nei colori e negli allestimenti Poi la nuova linea dedicata all'Urus sul principio dell'industria 4.0 in cui gli operai lavorano a stretto contatto con i robot per la produzione del nuovo veicolo firmato Lamborghini a Sant'Agata Bolognese a Sant'Agata Bolognese Grazie a tutti